Presentata negli spazi delle Gallerie d'Italia Napoli in Viatoledo, la quinta edizione di Napoli Città Libro, il Salone del Libro e dell'Editoria, in programma dal 14 al 16 giugno negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima. Abbiamo messo a frutto le esperienze delle prime edizioni e quindi abbiamo lavorato con grande gioia, sempre grande intensità e vivacità per una costruzione, questa forse è la novità, di una rete internazionale di città e di gemellaggi che parte da Napoli. Organizzata dall'Associazione Liberarte, promossa e sostenuta dal Comune di Napoli, la rassegna dal titolo Rigenerazioni riunisce alla Stazione Marittima più di 130 sigle editoriali e saranno presenti le case editrici nazionali con i loro autori. Come abbiamo promesso l'anno scorso siamo qui, il Comune ha offerto la sua patrocinio, il suo sostegno alla quinta edizione di Napoli Città del Libro, siamo molto contenti, il programma è molto ricco, oltre 130 soggetti, editori che si confronteranno, noi saremo presenti anche con le nostre municipalità. In primo luogo perché metterà al centro un tema, il libro, la lettura, l'editoria, che è un argomento fondamentale per lo sviluppo culturale di Napoli. Napoli ha una grande tradizione in questo settore, ha bisogno di crescere ancora e di riuscire ad avere poi anche un'industria editoriale che sia all'altezza della città. Dopo il patto di gemellaggio siglato lo scorso anno con la Fiera del Libro di Cali in Colombia, la nuova edizione di Napoli Città Libro ospita la città di Durazzo in Albania, sostenendo la pace, la solidarietà e l'incontro tra i popoli. Tutte le informazioni sono sul sito www.napolicittalibro.it Degli artisti napoletani sotto la guida di The Napolitanner, che molti di voi conosceranno, hanno realizzato quella che sarà l'immagine, simbola, l'iconografia di Napoli Città Libro. È un'iniziativa molto significativa, molto importante, che consentirà di avere una finestra importante sul mondo dell'editoria.